Nome. Pedro Nakada. Soprannome. L'apostolo della morte. Numero vittime. 17 accertate. Modus operendi. Arma da fuoco. Pedro Nakada nasce il 28 febbraio 1973 a Lima, la capitale del Perù. In questa città passerà tutta la sua giovinezza e qui vivrà tutti i traumi che ne faranno un serial killer in età già adulta. Il disagio e la violenza sono compagni quotidiani nella vita dei bambini che crescono in quella borgata dove vige la legge del più forte e per Pedro questa violenza comincia in casa. Abusi fisici e sessuali, vessazioni, castighi corporali compiuti dalla madre e dai fratelli, in una sequela di umiliazioni che Pedro non dimenticherà mai. Una volta i fratelli, per castigarlo per la morte della cagnetta di casa di cui l'accusano, abusano sessualmente di lui, violentandolo. Pedro cresce introverso e scontroso e rispecchia nel suo comportamento la violenza che apprende in casa. Non sapendo contro chi dirigere l'ira e la frustrazione che lo colmano, si sfoga torturando gli animali. Un giorno, dopo un rimprovero della madre che finisce in botte, prende il gattino di casa e lo cuoce in padella. Intanto, studia qualche anno alle elementari e alle medie, poi cerca di arrangiarsi, con qualche lavoretto qua e là. Non eccelle a scuola, anzi e i pochi che lo ricordano lo descrivono come taciturno e riservato. Quando a 17 anni decide di presentarsi volontario nell'esercito peruviano. Vuole acquisire potere per fargliela pagare a tutti quelli che hanno abusato e riso di lui. Rimane due mesi in caserma, poi dopo la visita psichiatrica viene congedato. Gli psichiatri militari gli riconoscono una psicopatia, giudicandolo pericoloso anche per la società. Sulla sua psiche pesano anche le ter familiari. Una zia schizofrenica, una sorella suicida, un'altra zia rinchiusa in manicomio. Per Pedro si tratta di una nuova e coccente delusione. Tenterà anche il suicidio. Nel 2001, ha 28 anni, decide che è ora di cambiare vita. Lascia Lima e si trasferisce a O'Aram. L'intenzione è quella di dimenticare il passato e di ricostruirsi una nuova vita dove nessuno lo conosce e lo possa giudicare. Ma con il passare del tempo Pedro, che si arrangia con un lavoro da meccanico, comincia a vivere di sotterfugi. Con un complice, ruba automobili che poi smonta per rivenderle per parti. Coltiva la passione per le armi, soprattutto le pistole, e affina la tecnica che poi userà per eliminare le sue vittime, preparando artigianalmente i silenziatori nella stessa officina meccanica. Intanto, la sua tendenza schizofrenica si aggrava. Sente che ha una missione da compiere, quella di liberare la città di Uaral dalla scoria. Confonde le sue allucinazioni con la voce di Dio, che gli impone di imporre la giustizia divina su una società corrotta e depravata. Le successive perizie psichiatriche dimostreranno che Pedro Nakada non è solo schizofrenico, ma è anche un pericoloso psicopata con tendenze omofobiche a causa delle violenze sessuali subite da bambino. È il 2005. Sta passeggiando sulla spiaggia quando si imbatte in un passante, Carlos Edilberto Merino, di 26 anni. Pedro estrae la pistola e lo uccide con un preciso colpo all'addome. Il 30 maggio 2006 sta camminando in una strada di periferia quando la sua attenzione viene richiamata da una donna. Quando si appicina si rende conto che quest'ultima, Teresa Cotrina Abad, una cinquantenne senza fissa dimora, una vagabonda, sta fumando crack. Senza pensarlo, estrae la pistola e le spara alla testa. Nakada ci ha provato gusto. Ha sentito l'onnipotenza, ha collaudato il potere di avere tra le mani il destino di un'altra persona. La distanza tra un omicidio e l'altro comincia a farsi sempre più corta e in meno di tre mesi uccide cinque altre persone. Il 19 agosto 2006 Pedro Pablo Nakada si è recato in un luogo appartato, dove si riuniscono periodicamente fumatori di crack con l'intenzione di ucciderne almeno uno. È appostato quando qualcuno si avvicina in bicicletta. Pensa che sia un tossico dipendente e spara. Quando va a vedere, si rende conto di aver ucciso una innocente. Si tratta della sfortunata Merito Lentino Pagelo, 15 anni. Preso dal rimorso abbandona la scena del delitto lasciando sul luogo la pistola che ha usato. La polizia però, anche con questa prova, non riesce a risalire all'identità di Nakada. Passano tre mesi e le voci ritornano a farsi insistenti. Pedro deve tornare ad uccidere. Lo fa la notte del 18 novembre 2006 e si ripete quattro giorni dopo quando, sempre con un preciso colpo di pistola alla testa, uccide tre persone su un taxi. Poi, se la prende con gli omosessuali e ne uccide tre in pochi giorni. A morire è una coppia di professori ventenni che scopre in intimità. Tamariz Nazario Perez, è il fidanzato, Didier Dulanto Zapata. Successivamente uccide un parrucchiere, con cui prima ha un rapporto sessuale. La necessità di uccidere si fa impellente e a dicembre Pedro Nakada lo fa in continuazione. Altre sei persone finiscono sotto i colpi della sua pistola in una ventina di giorni. L'ultimo a cadere sotto i colpi silenziati della sua pistola è il 36enne Nicolas Purizacca Gamboa. A questo punto la polizia è finalmente convinta di essere alle prese con un serial killer. Il modo di agire, l'identikit delle vittime, diverse testimonianze portano infine gli inquirenti sulle tracce di un folle assassino seriale. Dalima giunge a Maral una squadra speciale con il compito di arrestare il killer che sta terrorizzando la città. Il 28 dicembre 2006, dopo l'ennesimo omicidio, la polizia fa irruzione nell'officina meccanica dove Nakada lavora. Si tratta di un controllo di Rudin. I poliziotti, infatti, sanno che devono cercare un meccanico, ma non sanno quale di preciso. Nakada è solo uno dei vari sospetti. Pedro non lo sa e quando gli agenti iniziano a perquisire l'officina, estrae la pistola, fa fuoco, ferendo un agente e scappa. La fuga non dura molto. Terminate le munizioni, Nakada viene arrestato. Sulle prime nega tutto, poi quando cominciano ad apparire le evidenze, ammette i crimini. Sono 25 in tutto, anche se successivamente gli inquirenti tenderanno a ridurre questo numero a 17. Durante gli interrogatori rivela agli inquirenti i tratti della sua personalità disturbata. Alle domande sul movente degli omicidi risponde. Cerco solo di purificare la terra dalla presenza di prostitute, drogati, criminali e omosessuali. Sono le voci a dirglielo. Dopo l'arresto Pedro Pablo Nakada viene visitato da differenti psichiatri. Alla fine, il collegio medico determina che l'assassino non è schizofrenico, ma soffre di un disordine della personalità. Insomma, è in grado di stabilire la differenza tra il bene e il male. I suoi crimini, dicono i dottori, sono in gran parte premeditati, quindi può essere giudicato. Il tribunale fa il suo dovere e nei primi mesi del 2007 condanna Pedro Nakada a 35 anni di carcere. Il condannato dà in escandescenze. Vuole che lo uccidano, chiede la fucilazione, perché nella sua mente contorta pensa che deve essere così. Sembra tutto finito, ma la difesa nel 2009 ottiene la revisione del processo. Nakada viene trasferito al reparto psichiatrico della prigione di Lurigancio a Lima, dove ancora oggi sta scontando la condanna completa.